Manovra Con riferimento alla crisi libica, che riveste particolari interessi per l'Italia, è stato effettuato un punto di situazione sull'andamento delle operazioni in corso e sulle loro prospettive. A riguardo è stata sottolineata l'opportunità di valutare, insieme agli alleati, le possibili azioni da intraprendere nella situazione post-conflittuale che tende a delinearsi a conclusione della missione in corso sul mandato dell'ONU. È questa la decisione presa dal Consiglio Supremo di Difesa.